Siamo con il nuovo presidente della Proloco di Montescaglioso, Valentino Di Dio. Montescaglioso protagonista in questa edizione di Wikifest. Sì, come già detto prima, siamo qui presentati a Montescaglioso, nella bazia di San Michale Arcangelo, all'edizione della Basilicata Wikifest. Siamo onorati di questa partecipazione e speriamo di una futura collaborazione anche per Basilicata Media, proprio per dare voce sul pianeta internet di tutte le bellezze del nostro comune. Montescaglioso è un bellissimo borgo della Basilicata, un invito a visitarla. Invitiamo tutti i visitatori come ospiti qui nella nostra Montescaglioso a partire già dal 5 gennaio. la notte dei Cucibocca per finire fino all'8 dicembre dell'anno corrente, perché comunque abbiamo un anno ricco di eventi sia culturali che agroalimentari e quant'altro. Quindi Montescaglioso è da vivere. All'idea Grazie a tutti.